In teoria, questo gruppo di matti che vedete qua, il gruppo di matti è questo qua che vedete qua, eccolo qua, fatte salutate, eccolo qua il gruppo di matti, stiamo arrivando alla sede della Apple, forse, c'è una grande certezza sulla strada che stiamo facendo Guarda, guarda sulla destra, oh, oddio, non ci posso credere, non ci posso credere, vediamo qua, no, è più avanti, ma poi è più avanti, ma come, ma cazzo, più avanti, ma ti inculano, eh, Alessio, come mi inculano? Questo è il balazzo piccolo, eh, qui? No, no, balazzo piccolo cosa vuol dire? Dopo il semaforo, dopo il semaforo, a destra? No, Mariani Avenue, Mariani Avenue, ci posso credere, no, è vero, Mariani Avenue, il cellulare che fa la foto con lui, allora, adesso? E adesso è più avanti e poi, po' più... Ma cos'è? Una serie di staccati? Quella lì? Sì, è una serie di staccate, ok, è questa, allora, a destra? Da vent con avanti, no? Sì, un compus, qua, qua, qua. E tanti, altra tipologia, ironia, si ma voglio dire, se vuoi con quell'altra, al callate ti... testa che cazzo fai ma cosa c'entra ho detto ho chiesto ma non mi avete detto niente mi sento già tanti qua dieci volte tutti oddio no 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 blocca 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 porca puttana bastarda blocca 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 ce l'abbiamo nel culo no non ce l'abbiamo nel culo perché adesso ci sta parlando nel culo ma che parlando c'è indietro cosa roberto se ci stiamo ancora scendeci vada a piedi che si fa prima mi sembra vabbè non so che siamo finiti giro qua a destra qui a destra è neblanei senti sicuri non mi sembra che sia questo giro qua a destra porca quella puttana la tensione sta montando siamo siete sfigati totali in questo momento questa è la cupertino fire station bomberos dove l'hai visto è vero non c'hanno scritto bomberos no è che non siamo in spagna e se uno non capisce visto è torre ci siamo è la stessa stade di prima ci siamo quasi non usate parole come de anza è quella prossima è la prossima si 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 comunque hanno un ingresso molto brutto è detto tra noi cioè non è fastoso è qua a destra oh de anza è quella lì è rosso però si può girare lo stesso se non arriva nessuno sei sicuro se non arrivi sicuro da dove da sinistra anche perchè ora non siamo vabbè 10.001 cosa hai visto 10.001 allora coraggio secondo tentativo siamo troppo degli sfigati allora vediamo un po' crap feed crap feed non vuol dire non possiamo disquisirne dopo che dai da mangiare al granchio non lo so disquisiamone dopo allora calma dopo il semaforo vado a destra in mariani avenue eh no 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 vai dritto, c'è lo svinco per entrare nel parcheggio si, ma vai a 20 all'ora dopo sto andando a 20 all'ora, no la videocamera non serve a niente, allora calma cioè? pianissimo ecco, dove votano tutti, guarda, si, vanno tutti lì si, perché oggi manzano gratis ecco, oh ragazzi stiamo entrando in cresso veramente da sfigati assoluti all'Apple Campus Infinite Loop One Cupertino eccoci qua ecco la famosa sede ma figuri, siamo attesi da Brett e Pimpopallo lì One Infinite Loop io sono sicuro che appena entra vede Brett e dice, oh Brett, la prossima volta che mi chiami di venire perché mi incordo, fai qualcosa pazzesco non fai i coglioni così all'ultimo momento Infinite Loop perché c'è scritto il parcheggio col cazzo che ci ha voluto lasciare ma dove l'hai visto? guarda qua, qua la puoi lasciare andicapati, sì, ho visto allora, primo posto libero vogliamo lì, vaffanculo, ecco qua non sono neanche numerati guarda questi, ci mettiamo proprio in mezzo, guarda di fianco, così proprio così, in mezzo della parte più libera ecco qua e voilà questa è la sede perfetta